and now get ready three two one ladies and gentlemen please welcome this is deep teacher show playing the best deep and soulful house music grooves from all over the world eccoci pronti per un altro appuntamento firmato deep teachers show benvenuti su radio carina in tv sul 697 del digitale terrestre per ascoltare e guardare i suoni del deep teachers suonati per voi da lorenzo gerbone toni m e davide padolosi per tre ore fino a luna di notte mi raccomando alzate sul volume perché questo è il meglio che potete ascoltare lesson number one in the mix dj david dave padolosi and then in the mix dj david dave padolosi and then and then and then and then and then and then Grazie a tutti 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 Grazie a tutti